Nelle feste c'è lui, nelle vigilie, al centro c'è lei, discreta come brezza d'aprile che ti porta sull'imitare di casa profumi di verbene, fiorite al di là della siepe. Ci sono, a volte, degli attimi così densi di mistero che si ha l'impressione di averli già sperimentati in altre stagioni della vita, e ci sono degli attimi così gonfi di presentimenti che vengono vissuti come anticipazioni di beatitudine future. Nel giorno del sabato santo di questi attimi ce n'è più di qualcuno, è come se cadessero all'improvviso gli argini che comprimono il presente. L'anima allora si dilata negli spazi i retrostanti delle memorie, oppure, allungandosi in avanti, giunge a lambire le sponde dell'Eterno rubandone i segreti, in rapidi acconti di felicità. Come si spiega, infatti, se non con questo rimpatrio nel passato, il groppo di allusioni che, superato appena la parasceve, si dipana al primo agurio di buona Pasqua e si stempera in mille rigagnoli di ricordi, flueneti tra anse e di gesti rituali. La casa, vergine di lavacri, che profuma ad altri tempi, l'amico giunto dopo tanti anni, nei cui capelli già grigi ti attardi a scorgere reliquie di infanzie comuni. Il dono pulenento, là in cucina, tra le cui carte stagnole cerchivano sapori di antiche sobrietà. Quando era viva lei, e l'amadia nascondeva solo stupori di uova colorate. Il grembo vuoto della chiesa, il cui silenzio tra bocca di richiami e dove nel vespro ti decidi finalmente a entrare, come una volta per riconciliarti con Dio e sentirti restituire a innocenze perdute. E come si spiega, se non col crollo delle dighe rette dai calendari terreni, quel sentimento pervasivo di pace che nel sabato santo, almeno di sfuggita, irrompe dal futuro e ti interpella con strani interrogativi a cui senti già di poter dare risposte di gioia. C'è un tempo in cui la gente starà sempre a scambiarsi strette di mano e sorrisi, così come fa oggi. Verranno giorni sottratti all'usura delle lacrime. Esistono spazi di gratuità dove non smetteremo più gli abiti di festa. Ci sono davvero delle stagioni in cui la vita sarà sempre così. Fascino struggente del sabato santo, che ti mette nell'anima brividi di solidarietà, perfino con le cose e ti fa chiedere se non abbiano anch'esse un futuro di speranza. Che cosa faranno gli alberi stanotte quando suoneranno a storno le campane? Le piante del giardino spanderanno insieme come turiboli d'argento la gloria delle loro resine? E gli animali del bosco ululeranno i loro concerti mentre in chiesa si canta l'ex urtet? Come reagirà il mare che brontola sotto la scogliera all'annuncio della risurrezione? L'angelo in bianche vesti farà fremere le porte anche dei postriboli? Anche i cancelli del cimitero sussulteranno sotto i plenirunio le tombe dei miei morti? E le montagne, non viste da nessuno, danzeranno di gioia attorno alle convalli? Una risposta capace di spiegare il tumulto di queste domande io ce l'avrei. Se nel sabato santo il presente sembra oscillare su passato e futuro è perché protagonista assoluta, sia pur silenziosa di questa giornata è Maria. Dopo la sepoltura di Gesù a custodire la fede sulla terra non è rimasta che lei. Il vento del Golgota ha spento tutte le lampade ma ha lasciato accesa la sua lucerna, solo la sua. Per tutta la durata del sabato quindi Maria resta l'unico punto di luce in cui si concentrano gli incenti del passato e i roghi del futuro. Quel giorno essa va errando per le strade della terra con la lucerna tra le mani. Quando la solleva su un versante fa emergere dalla notte dei tempi memorie di santità. Quando la solleva sull'altro anticipa dai domicili dell'eterno riverberi di immenenti trasfigurazioni. Santa Maria donna del sabato santo, estuario dolcissimo nel quale almeno per un giorno si è raccolta la fede di tutta la chiesa. Tu sei l'ultimo punto di contatto col cielo che ha preservato la terra dal tragico blackout della grazia. Guidaci per mano le soglie della luce di cui la Pasqua è la sorgente suprema. Stabilizzi nel nostro spirito la dolcezza fugace delle memorie perché nei frammenti del passato possiamo ritrovare la parte migliore di noi stessi. E ridestaci nel cuore attraverso i segnali del futuro, un'intensa nostalgia di rinnovamento che si traduca in fiducioso impegno a camminare nella storia. Santa Maria donna del sabato santo, aiutaci a capire che in fondo tutta la vita sospesa com'è tra le brume del venerdì e le attese della domenica di resurrezione si rassomiglia tanto a quel giorno. È il giorno della speranza in cui si fa il bucato dei lini intrisi di lacrime e di sangue e lì si asciuga il sole di primavera perché diventino tovaglie di altare. Ripetici insomma che non c'è croce che non abbia le sue deposizioni, non c'è amarezza umana che non si stemperi in sorriso, non c'è peccato che non trovi redenzione, non c'è sepolcro la cui pietra non sia provvisoria sulla sua imboccatura, anche le gramaglie più nere trascolorano negli abiti della gioia. Le rapsodie più tragiche accennano ai primi passi di danza e gli ultimi accordi delle cantilene funebri contengono già i motivi festosi dell'alleluia pasquale. Santa Maria donna del sabato santo, raccontaci come sul crepuscolo di quel giorno, ti sei preparata all'incontro col tuo figlio risorto. Quale tunica hai indossato sulle spalle? Quali sandali hai messo ai piedi per correre più veloce sull'erba? Come ti sei annodata sul capo i lunghi capelli di Nazarena? Quali parole d'amore ti andavi ripassando segretamente per dirgliele tutto d'un fiato non appena ti fosse apparso dinanzi? Maria dolcissima, prepara anche noi all'appuntamento con lui. Destaci l'impazienza del suo domenicale ritorno. Adornaci di vesti noziali. Per ingannare il tempo, mettiti accanto a noi e facciamo le prove dei canti. Perché qui le ore non passano mai?